bella a tutti ragazzi bentornati sul canale di andrea playerpescio ecco a voi i regali del mio compleanno in anticipo allora iniziamo subito con il video che vi dà l'indizio perché tanto non ho da fare l'indizio parto così mettiamo qua mettiamo qua e mettiamo qua eccola qua questa me l'hanno regalata per il mio compleanno primo regalo di compleanno pam pam play da 500 giga più che sufficiente non avrei cioè l'ho presa per esclusivi per giocare rifare gameplay queste cose qua però la switch c'è perché rimarrà sempre qua eccola qua poi c'era l'offerta che ti davano anche secondo pad l'ho preso rosso l'alluso nero poi ho preso gattiri che porterò sul canale poi 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 nell'offerta c'era questo cod con rimassere dei quattro dopo mettiamo a scaricare dopo ristallo tutto poi abbiamo preso ho preso portac night questo qua lo volevo ho preso poi ho preso destini perché siccome che ho tutte le espansioni ho preso solo questo ho preso praticamente usato allora aspettate ecco qua ho preso questo usato adesso abbiamo preso fifa 16 per diventirci due tanto per poi ho diviso perché ho tutti i dlc così almeno riprendo poi ho preso questo perché c'era adesso ci sono le offerte se compri un gioco il tuo gioco lo paga i 5 euro quel bollino è ora ho preso moto gp 15 per giocare con la con la mia fidanzata perché adesso mi piace anche la moto e questo qua che è un giochino nuovo in platform così questo qua in partire mi ha pagato uno 5 euro l'altro 20 euro forse poi pulisco il cd poi questi mi sono stati regalati nuovi anche questi qua battlefront poi giustos 3 questo qua beh e la colletto di evi rain e bionda anche se l'avevo già giocato però lasciato un po scompino l'ho ripreso come esclusiva che poi recupero qualche esclusiva per forza poi ho ordinato crash perché a lei piace crash e poi questi qua li ho presi io per ipad per non far venire cose adesso le stellerò e tutto quanto e niente qua niente ragazzi questi sono i primi regali di compleanno che mi sono stati fatti contentissimo e così almeno almeno due piattaforme adesso da giocare le esclusive per la play 4 recupererò un po' qualcosina che mi interessa di sclusiva poi qua abbiamo prenotato per la switch abbiamo prenotato il mondo beh splatoon supermaio odyssey beh crash sony geforce per la switch poi abbiamo prenotato NBA per la switch lego marvel 2 per la switch rhyme per la switch destiny 2 per pc ma lo spostavo su la play 4 poi cast 3 per la switch pokemon per switch per i 3ds pokemon sole ultra sole qua roba lì per i 3ds pokemon mario rabbi faremberg xenoblade kirby yoshi skyrim lego world wk 18 poi ho preso anche rhyme poi ho preso anche qua ci sono delle sigla se non mi ricordo che giochi sono comunque questa è tutta la lista dei bell'idio che ho prontato per switch eccetera vedete si metta a poco sto stronzo spartone metta a poco metta a poco fifa 18 mi vuol tutto eccetera ok ragazzi niente adesso ci staglia tutto e niente ragazzi ci vediamo alla prossima fra un paio di giorni registro la garanzia della console e niente ragazzi questi erano video prima per gli acquisti che ho fatto io e questi qua sono i primi regali del mio compleanno che ho ricevuto niente ragazzi ci vediamo alla prossima e poi ci sarà un altro video in settimana chiedevi venire il mio carissimo amico e vi farò vedere altri regalucci ok ragazzi ci vediamo alla prossima saluto tutti quanti ragazzi gruppo di guasari tutto il telegram tutti i miei fratellini sorelline eccetera un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima ciao belli continuate a seguirmi anche se non sono molto costante ma ho due milioni di problemi so che magari non mi interessa però cercherò essere un attimino più presente quando il tempo me lo permette ok ragazzi ci vediamo alla prossima ciao belli un bacione enormi ciao alla prossima